Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, faremo una breve analisi di quella che è stata la partita fra Inter e Manchester United Si stanno giocando ormai gli ultimi tre minuti di gara, ragazzi che dire, è una partita molto molto squilibrata Cioè nel senso il Manchester United ha avuto sempre il palino del gioco, hanno rischiato più volte di segnare Anche se devo dire che comunque l'Inter anche essa ha avuto le sue occasioni Siamo stati molto molto pericolosi in alcune occasioni, però siamo stati poco lucidi Ma ragazzi si sente soprattutto il peso di un attaccante di ruolo lì nel reparto Perché ovviamente i ragazzini e Longo, che comunque Longo ormai è un calciatore, cioè non si può definire calciatore Si facevano sentire tantissimo Invece la United, che ragazzi se non lo sapete la Premier League parte sempre prima della Serie A Quindi ovviamente sono molto più avanti rispetto a noi per quanto riguarda la preparazione E questo si è visto, si è visto parecchio soprattutto appunto negli allunghi Facciamo un'analisi insomma dei calciatori, a me è piaciuto tantissimo Dalbert Brutto da dire, ma ragazzi Dalbert forse migliore in campo per la nostra Inter Perché ha dimostrato veramente una caparbietà, una grandissima forma Cioè forse è l'unico che sta riuscendo a reggere l'effetto Conte Mentre poi ragazzi che dire, non mi è piaciuto proprio particolarmente, come si chiama, D'Ambrosio D'Ambrosio così e così, nel senso si deve ancora abituare a questo ruolo Non mi è piaciuto neanche Sensi oggi ragazzi, poco presente nella manovra Non è stato molto arcigno, come al suo solito E forse Brozovic ragazzi ancora poteva fare di meglio Peri si c'entra e sbaglia subito qualcosa di clamoroso Però ragazzi ci sono gli attenuanti, cioè insomma siamo in piena preparazione E l'Inter ovviamente, cioè Conte pressa tantissimo Volevo fare un applauso quindi ad Dalbert, veramente un'ottima partita Se veramente dovesse rinvigorirsi sarebbe un nuovo acquisto per noi in casa Senza spendere una lira Mentre ragazzi per il Manchester avete visto Lukaku in panchina Cosa ne pensate di questo? Cioè per me il fatto degli infortuni è tutto una cavolata Perché non è la prima volta che ci stiamo affinti infortuni Quando si parla di voci di mercato Quindi secondo me potrebbe veramente arrivare all'Inter Nel caso in cui infatti dovesse giocare le prossime partite Magari questo ci fa capire sicuramente che era tutto una cavolata E che la trattativa con l'Inter è veramente ben avviata Ci servono ragazzi degli attaccanti Perché ovviamente Icardi ormai è fuori dal progetto Nengolan io pensavo che sarebbe rientrato nel progetto Dato che sia allenato con la squadra Invece no Infatti Conte l'ha subito mandato in tribuna Senza neanche permettergli di fare un minuto Questo la dice lunga sul fatto che ovviamente anche il Ninja ci lascerà Niente ragazzi Gol preso su una paperata di Andanovic Spero che le faccia tutte adesso le papera e poi si risparmi in campionato Papera nel senso Poteva fare meglio Perché ovviamente una palla che ti arriva dall'altra parte E tu la mandi dal lato opposto Devi mettere molta più forza nei pugni Per spedirla più lontano possibile E quindi impedire a qualcuno di raccogliere Invece è stato veramente proprio pianissimo E non ha neanche proprio spinto con i pugni Questo Greenwood Veramente io pensavo fosse Pogba per come si è mosso Praticamente finta di destra o tira di sinistra Veramente incredibile E poi ragazzi a proposito di Pogba Ma quanto vale Pogba? 200 milioni Veramente un giocatore incredibile Ci ha fatto girare la palla Pogba Non gliela prendeva nessuno Potevano mettersi scrigni a tutti Nessuno Nessuno riusciva a prendergli la palla Veramente incredibile questo giocatore Niente ragazzi Non troppo soddisfatto della partita Cioè l'Inter non mi è piaciuta come ha giocato Una molto attendista Nel senso mi accorgevo che Giocavamo molto dietro Molto schiacciati E ogni volta che avevano la palla I tre di difesa Non riuscivano a trovare sbocchi per ripartire Cioè perché gli esterni erano Troppo avanti Troppo larghi Troppo indietro E quindi erano troppo vicini Non mi piace a me questo modulo Se non interpretato bene Secondo me Conte è arrabbiato Perché appunto non ha gli interpreti per questo modulo E per questo vuole effettivamente Acquistare ancora altri giocatori Non so nella sua testa se ci sia solo Lukaku Ovviamente c'è anche Giego Poi non sappiamo altri nomi Magari si parla di Milinkovic Savic Ragazzi sono giocatori che secondo me Servono tantissimo la nostra Inter Perché così Ovviamente C'è l'attenuante del caldo C'è l'attenuante della preparazione Però a livello di gioco Ancora siamo secondo me Lontani Ragazzi Una barca di mi piace per questo video Andate a vedere La simulazione Della Dell'ICC Sul mio canale Ci sono anche tutti i video Relativi alle curiosità sui calciatori Ragazzi Fatevi un bel excursus Sul mio canale Se vi siete persi questi episodi Perché ci sono un sacco di cose belle Le 10 su curiosità Sulla Zaro Su Sensi Su Agume E nel caso in cui dovesse arrivare Lukaku Faremo anche quelle su di lui Ora è veramente tutto ragazzi Spero che vi sia piaciuto il video Anche se sono soltanto le immagini Ragazzi Ai 10.000 iscritti Farò vedere anche La mia faccia È una questione Appunto un obiettivo Che ho prefissato all'inizio del canale E quindi bene ragazzi Adesso è veramente tutto Forza Inter Speriamo di fare meglio Alla prossima E quindi ciao Da Zetacloud